Amici di UBasket, ben trovati! Siamo alle semifinali di questa C-Silver 2018-2019, veramente un campionato di assoluto livello anche quest'anno per la FIP FWG, settimana scorsa che ha sancito alcuni verdetti importanti e definitivi, sono retrocesse il Don Bosco Trieste e la OS Goriziana, si sono salvate la DGM Campoformido e il Romance. Per quanto riguarda le semifinali di sabato e di domenica, Codroipo la Tisana con assoluta favorita la banda di coach Francesch Kinn e per quanto riguarda il match di domenica Sistema 3S Cordenos, anche qui per Trucco e le Soci sicuramente favore del pronostico. Vi saluto, un buon weekend e alla prossima! Grazie a tutti!